Ho sempre avuto ottimi e costruttivi rapporti con lui e conseguentemente confido che tutto questo ha maggior ragione ora che lui ha un ruolo davvero importante, infatti ci vedremo nei prossimi giorni. Probabilmente una spinta che nasce da un elettorato che dopo le elezioni politiche trova il Partito Democratico all'opposizione e vuole un'opposizione che sia molto forte e quindi ritrova anche una impostazione della sinistra di lotta oltre che di governo. Sono convinto che la chiave è quella di un partito che poi sappia essere unitario perché poi in realtà abbiamo un partito che voto più, voto meno, ma ha due espressioni che si sono articolate nei candidati che sono molto forti.